Il primo album di Need You Are. Da anni aspetto questo momento. Quando ho iniziato la collezione ho pensato il giorno in cui potrò ascoltarlo tranquillamente sarà un uomo felice. Possiamo parlare prima di metterlo. Ti dispiace. È proprio adesso? È per Sebastien. Ah no, lui no. Non fa niente tutto il giorno. Buongiorno, caro. Ciao. Ho portato i panni sporchi. Gentile. Finalmente soli. Che cos'è questo casino? Scusi, giovanotto. Scusi! È possibile avere un po' di silenzio? Sì, lo spacca muore. Tutti congiurano per impedirmi di ascoltare il mio disco. Ah, buongiorno, signor Michel. È qui anche lei? Non la disturbo, vero? Sulla mia casa, suo marito l'aspetta. È morto. È morto, merda, sì, è vero. Elsa! Che fai? Passi l'aspirapolvere? No, sì, Maria. Insomma, voglio passarlo io. In fondo è mio. Tua moglie lo sa. Ti preoccupi per niente. Ma se ti dico che non ha scoperto niente... Ci diciamo molte bugie noi due. Ma quali bugie? Non ti ho mai mentito, Elsa. Eh, Natalie, ma qui nessuno menti. Michel, ho avuto una storia. Con Pierre. Ti rendi conto che Pierre è il mio miglior amico? Mi sento un coglione tutto al tratto. Questo è ciò che si chiama una rivelazione improvvisa. Che c'è ancora? C'è un grosso, grosso problema. Piove addirotto nel mio salone. Ma chi avete combinato? Vi ho chiesto di fare uno studio, non una piscina olimpionica. Chi sono queste persone? Sono tutte cose sole di questi tempi. Beati loro. Merda. Oh, carino. Ma che sei venuta a fare qui? A dire la verità a Natalie. Ma perché oggi? Perché proprio oggi? Perché ce l'avete tutti come oggi? Avete completamente spaccato la tubatura. Riparare, riparare. Verso basta! Ci sei spazzoso! Ma che io devo fare qualcosa? Ci vuole l'assicurazione. Io non posso assicurazione. Come non posso assicurazione? Lei paga me in nero. Ah, sì, è vero. Anche questo è vero. Anche questo è vero.